Lo sguardo integrale. Anche qui, così prima abbiamo fatto la differenza con il mondo New Age, adesso possiamo fare la differenza con tutto questo fiorire di pratiche olistiche, olismo, da tutte le parti. Nell'82 ho fondato l'associazione OM e abbiamo fatto un manifesto olistico, parlavamo di olismo. La gente mi chiedeva se facevamo l'olio, cioè nessuno mi ha sentito parlare di olismo più o meno. Sì, ti giuro. Praticamente tutti parlano di olismo oggi, però all'interno è una mente razionale. Cioè se stai nel tuo pensiero razionale e vuoi essere olistico, quindi cerchi di mettere insieme le cose. Fai un po' di... cioè fai yoga, poi dopo, che ne so, leggi un libro, poi dopo vai nel bosco, piuttosto che... mettere insieme le cose non è una visione olistica, è mettere insieme le cose, sempre secondo me la visione duale. Lo sguardo integrale, infatti adesso io parlo di integrale, non più di olismo da anni, lo sguardo integrale ti consente di cogliere le cose come sono. Le cose sono insieme. Man mano che noi facciamo il nostro viaggio di stato di coscienza, come dicevamo, questa espansione del stato di coscienza, questo andare verso la profondità e ridurre la varietà, ti fa cogliere l'unità delle cose. Perché le cose sono insieme. Il famoso corpo e la mente sono nella psicosomatica, mica devi mettere insieme. C'è un disturbo psicosomatico, ne conosci uno che non sia psicosomatico? Cioè che non sia nel corpo e nella mente. Noi usiamo i cinque livelli, fisica, energetica, emotivo, mentale e spirituale, tanto per avere una mappa epistemologica. Ma sono tutti insieme, è evidente. Ma io non posso cogliere l'unità se non sono in un stato di coscienza unitario. E non sono in un stato di coscienza unitario se non ho un atteggiamento unitario, cioè se non faccio la cosa giusta dentro di me per essere in connessione con il mio sé, che è l'archetipo dell'unità. Per la BTE e per il bisogno di una persona il sé è l'archetipo unificante e quindi la connessione con il sé mi consente uno stato di coscienza unitario per il quale io colgo l'integrazione delle cose. Non devo metterle insieme, sono già insieme. Perché integrale vuol dire non toccato. Non toccare niente. E questo ti guida anche nella terapia. Non toccare, non ti credi di essere terapeuta per mettere a posto le cose. Cioè le cose vanno a posto se si fa la cosa giusta. Quindi semmai fai la cosa giusta, alleati al processo e riconosci che cosa lo interrompe, che cosa separa, togli di mezzo. Capisci che se la tua epistemologia è le cose, il sé è il principio unitario, le cose sono unite, il processo si sta compiendo, si capovolge il tuo sguardo. Io, terapeuta, questo devo fare? Togliere di mezzo ciò che non consente che il processo si compia. Togliere di mezzo ciò che non consente lo sguardo unitario. Togliere di mezzo ciò che separa. Ma per fare questo, ovviamente, io devo stare in una condizione unitaria e in uno sguardo unitario. Per questo anche che sembra così evidente questa cosa, ma molto pochi te lo propongono. Perché ci devi essere in questo stato per poterlo fare, per poterlo proporre. devi comprenderle, per comprenderle, devi entrarci via via, praticare, avere le mappe, che te lo dico, perché appunto magari attingo a questa dimensione e mi spavento. E qui perdi i miei punti di riferimento. Come faccio? Dove li trovo? Perché la nostra umanità, la nostra società vive secondo il codice della paura. Punto. Tutto, anche, no? Prima o poi andiamo dentro di noi e incontriamo qualche paura. Potremmo dire che il transpersonale è il passaggio del codice della paura al codice della fiducia. Se non ti confronti costantemente con questa scelta del codice della fiducia, a un certo punto incontri la difficoltà nell'essere transpersonale. Si tratta di comprendere, di vivere, di scegliere il codice della fiducia. Che non è ingenuità, che non è ignorare. La paura, ben venga. Cioè, mi stai dicendo che sono un confine. Ma io non guardo solo te, paura. Guardo che sei un alleato che mi stai dicendo che sei un confine. Ah, va bene, grazie. Non ti scelgo, vado. Quindi la paura è come segnale, la paura è come alleata, e non come la guata nel quale cadereci dentro. Grazie. 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 Grazie.